Eccoci con Andrea Ranocchi, una vittoria importantissima, difficile, però quello che ci voleva in questo momento complicato? Difficilissima, difficilissima, loro comunque giocano bene, ma prima di questa partita sappiamo che era difficile, però in questi momenti abbiamo tirato fuori il carattere e siamo riusciti a portare a casa questi tre punti che sono fondamentali, molto fondamentali. Non è un caso che dopo i gol vi siete come sbloccati? Sì, sì, in questi momenti qua è importante far gruppo, stringerci tutti intorno, aiutarti l'uno con l'altro e far punti. Due screen eravate stati protagonisti di quella autorete un po' clamorosa a Genova e avete invece risolto la partita questa sera, la fortuna dai togli. Sì, il lavoro ripaga sempre, questo gruppo ha ancora tanto da lavorare ma ha ancora tanto da far vedere. Adesso il derby? Adesso il derby, ma ci arriviamo carichi. Grazie Andrea Ranocchi, a voi. Grazie Marco. Grazie a voi.